Sono Gabriele Lottici, sono presidente del network Casa Clima Emilia Romagna. Il network Casa Clima è un'associazione culturale senza fini di lucro che ha come scopo la diffusione dei principi di sostenibilità ed efficienza energetica relativamente agli edifici in tutto il territorio dell'Emilia Romagna. Siamo partner dell'agenzia Casa Clima e del network Casa Clima Italia e come tale facciamo e organizziamo convegni, incontri formativi e informativi sia per tecnici che per la popolazione. Abbiamo un vasto programma di iniziative che stiamo mettendo in atto già dal 2011 da quando ci siamo costituiti e dal 2013 abbiamo iniziato questa partnership con l'agenzia per l'energia di Modena alla quale forniamo supporto per esempio per la realizzazione dei corsi base e avanzato Casa Clima e per la realizzazione di incontri come quello di oggi sulle riqualificazioni energetiche. Nel 2014 faremo degli ulteriori incontri in questa sede, uno in particolar modo sarà sull'isolamento dall'interno che è uno degli argomenti che ci interessa di più in vista del lavoro dei prossimi anni che sarà rivolto sostanzialmente soprattutto alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizia esistente. La nostra associazione è presente sul web con un sito dedicato e anche una pagina Facebook sulla quale noi pubblichiamo continuamente le nostre iniziative e diamo la possibilità agli interessati di diventare soci e partecipare attivamente alla vita del network. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.